Ciao a tutti, in questo video vedremo i giocattoli che non possono mancare ai neonati da 0 a 3 mesi. Il Doudou, aiuta a calmare e adormentare il tuo bimbo, è morbido e facile da lavare. Il Sonalio di Peluche, stimola il riflesso di prensione palmare, aiuta ad aprire la manina al bimbo in modo che più avanti possa iniziare a prendere gli oggetti. Mobiles e oggetti di colori bianco e nero. I primi mesi i neonati vedono in bianco e nero e da sfumature di grigio, quindi saranno molto attratti dagli elementi a forte contrasto. Sono perfetti per la stimolazione visiva. Palline per massaggio creano diverse sensazioni nel tuo bimbo e stimolano la circolazione e sono perfette per la stimolazione tattile. Giocattoli da bagnetto. I primi mesi i bimbi conoscono tutto attraverso la bocca. Questi giocattolini si sono più grandi della loro manina, sono sicuri e si possono lavare facilmente. Calzini e bracciali a Sonali. I primi mesi i bimbi si guardano spesso le manine e i piedi. Questi calzini e bracciali, grazie ai loro colori contrastanti e ai Sonali, sono perfetti per la stimolazione uditiva e visiva. Per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale, datemi un bel pollice in su e ci vediamo la prossima. Adios, amigos! Iscrivetevi al canale, grazie a tutti! Iscrivetevi al canale, grazie a tutti! Grazie a tutti!